Non ho un qualcosa di unico in senso assoluto, ma ho un qualcosa di unico nel momento in cui io riesco a dare un valore a quello che c'è. Io sono Marco Brackett-Contol, sono imprenditore agricolo dal 2009 e produco formaggi di capra. L'azienda agricola La Capra e la Panca nasce dalla volontà di valorizzare dei terreni abbandonati, alcuni dei quali erano di proprietà di mio nonno. Quindi io ci tenevo particolarmente a questa montagna, a questo posto e a non vederlo finire coperto di rovi e dimenticato dagli uomini. Il nostro formaggio non riesco e non voglio farlo uguale durante tutto l'anno. Essendo un prodotto artigianale, le temperature, l'umidità, il clima che c'è in una determinata stagione hanno una grossa influenza sulla consistenza e sul sapore, sullo sviluppo del sapore del formaggio. Credo che questa sia la grossa ricchezza di una produzione artigianale e allora tutto quello che sta attorno va a influire sul formaggio e va a renderlo unico e particolare.